Ehi la ragazzi, ciao a tutti, ben arrivati su Yacht Mechanic Simulator 2021, la demo Mi hanno inviato questo gioco ragazzi per provarlo, ultimamente pare che come i funghi escono fuori i giochi di meccanica E non so quando esce questo gioco, ho dato un'occhiata, su Steam non c'è scritto Quindi non so di preciso quando uscirà Penso ovviamente quest'anno però non so quando E niente, insomma in questo gioco dobbiamo riparare delle barche, dobbiamo riparare gli yacht Ho dato un'occhiata un po' a un video introduttivo e pare molto 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 interessante Purtroppo pare che non c'è la lingua italiana e neanche le opzioni sono poi così tante Però vediamo un po' comunque, dai, è più sempre una demo, il gioco non è uscito Chissà, magari poi in futuro sarà anche in italiano e più, con più opzioni Vediamo insomma Intanto comunque pare che gira bene, faccio 60 fps Allora benvenuto nel tutorial Il tuo obiettivo iniziale è prendere ordinazioni dai clienti Ripara, prova la barca e così via insomma Gli obiettivi attuali sono visualizzati in alto a sinistra Ok Allora, dobbiamo prendere gli ordini Dove li prendo? Boh Ah, ok, portatile Ok, ok, eccolo qua Allora, da qui prendi gli ordini, va bene Allora Mail, penso dalle email Ok, contratto 7800 E ci abbiamo Che so, 15 minuti Catalina, 26 minor repair Catalina sarà il nome della barca Da sistemare Propeller Che credo che è l'elica E tavolo Manca poi Il volante Ok Credo Allora, qui puoi Vedere i dettagli dell'ordine Che cosa bisogna fare nella barca per ripararla E quanto tempo ti rimane prima che il contratto sparisce Ok Accetta Ok Preparazione della barca Allora Nella parte destra del pannello Vedi i progressi Devo portarli al 100% Obiettivi Pulire Clean trash Ah, devo pulire tutta la spazzatura che trovo nella barca Devo trovare tutte le parti mancanti Sostituire le parti difettose E pulire lo scafo Pulire lo scafo Ok La barca è pronta per la riparazione Per salire a bordo Devo trovare questo carrellino qui Ok Eccolo qua Lui è O ce n'è più di uno Questa è la barca Credo Qual è delle due Scusa Qual è delle due mo? Sono confuso Ci stanno due barche qua Qual è la Catalina? Ah, penso che è questa Perché mi sembra più grezza Non lo so Non lo so Deve essere lei Aspetta ma ce n'è un'altra qua O è lei? Ah questa è Ma veramente Ma uno come fa a capire qual è la barca giusta? Cioè Se non mi dici qual è la barca Io come faccio a saperlo? Ma deve essere questa Perché è la più scassata di tutte E poi il lifter Come cavolo lo chiama lui È qua quindi Allora Durante l'ispezione L'ispezione della barca Ti puoi muovere liberamente Usa il mouse per guardarti attorno Devo premere il tasto centrale del mouse Per bloccare la telecamera Vediamo raga Vediamo Che cacchio è sta roba Per interagire con gli oggetti della barca Devi usare degli attrezzi Vabbè Insomma attrezzi Mo vediamo raga Perché l'inglese non è il mio forte Non è che Comunque la barca è lei Vediamo un po' Sto cercando di capire come mi muovo Ah ok Quindi posso guardare la barca Per bene Tipo questo che cacchio è Alle volte Durante l'ispezione Puoi incontrare Questi simboli Qui Questi simboli Ti permettono di interagire Cioè questa lente di ingrandimento Tipo Questi simboli Ti permettono di interagire Con le parti della barca Ok Vabbè Vediamo un po' raga Ah Ah ok Per rimuovere tipo le boe Ok Eh sto cercando piano piano Raga di capirci qualcosa Tipo cos'è questa La devo togliere pure Tiriamo sulla catena Ah questo è il famoso tavolo Da cambiare Allora sostituire Eh Le parti Per sostituire un oggetto Prima lo devi smontare Per smontare l'oggetto Usa il L'attrezzo giusto Per vendere E poi vendi l'oggetto rotto Poi ne compri uno nuovo E lo monti Vabbè Sì Ripeto raga L'inglese mio Non è granché Allora devo Ah ecco Col clic destro Ok Vabbè Vabbè Ho capito Dai No non c'ho Ah ok Ah Viene Ok Vabbè Buone Vabbè E mo Allora per rimuovere l'oggetto Usa L'attrezzo Vendi Vendi Sell Tool Sell Ok Per inserire un nuovo oggetto In uno spazio vuoto Usa Shop Ok Shop Ah E quale ci devo mettere Boh E mettiamo questo Va bene Ok Lo dobbiamo Oh E quale è il problema qua E che è Ah Beh certo Ecco fatto Oh Un po' Un po' a fatica Ma ce l'ho fatta Ah la spazzatura Invece Come si toglie Prima di poter Riparare la barca Devi pulire Tutto Devi pulire tutto Insomma Devi togliere la spazzatura Ok Per rimuovere la spazzatura Trascina Sto simbolo Come dice la freccia Per la sporcizia Devo usare Il Toll mop Ok 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 raga Ah la sporcizia E questa qua Il Toll L'oggetto mop E tu cacchio Brush Non va bene Ma cacchio Ah ecco Ok raga Piano piano Perché per me È tutto nuovo E quindi Sto cercando Un pochino Di capista Situazione Piano piano Imparo Che manca Ok di pulire Abbiamo pulito Sostituire le parti Mi pare che l'altra parte Danneggiata Era l'elica Mi pare Mi pare di sì Sì Propeller Oh Com'è 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 combinato Qua Ho sbagliato Attrezzo Ah Devo usare Il racket Ah racket Giusto Bello Che mi dice L'attrezzo Screwdriver Ok Giravite Vrench Ora Sell Ah bello Comunque In alto a sinistra Dice esattamente Quello che ci vuole Per continuare Shop Una dei due Che cambia Boh Cambia poco e niente Pichiamo questa Applica Allora Vrench Screwdriver Racket Che cacchio è Questo Va bene Ok Fill up Missing Le parti Mancanti Della barca Ah che mancava Il volante Vero E allora Qua ci vuole Shop Ce lo mettiamo Questo qua Ok Per finire Dobbiamo pulire La barca Un attimo Allora E quindi ci vuole Pressure gun Direi Va bene Bello Ok Ok È un po' Baggatino L'animazione Qua Però Difatti Non è Gran Che Ok È una Demo Raga Non fate Caso Dove Va Quel Coso Ha voglia Se ce n'è Di sporcizia Mamma mia Mamma mia Come si fa Come si fa Ma usci di qui And No Back Ok Buono Finiamo L'ordine Ok Ce l'hai Fatta Lo Guarda Guarda la barca Non è bella L'ultima cosa da fare È provare Insomma Dobbiamo provare la barca Non è che poi l'ho pulita Granché È tutta sporca Ancora Ma vabbè Oh Dice che lui Andava bene Ma la devo guidare Io Prova la tua barca Mia non è È del cliente Allora Benvenuto Nel Tutorial Va bene Dobbiamo Insomma Che devo fare Ok Per cambiare Telecamera Tasto 1 E tasto 2 Ok Oh Oh Troppo veloce Ah Ho capito Come funziona Ma che diabete Devo fare Dove devo andare Oh Mamma Un po' Difficile Però è figo Dai Ma che devo fare Non l'ho mica capito Ah Devo andare lì Non ci sto a capire Niente Andiamo Che devo fare Ah ok Devo fare Come dire Sì Ciao Oh Figo Bello Che bello Che bello Veloce Cavolo Eh di sicuro Mamma mia È una bestia Vai No Non l'avevo Visto Quello Ma Quanti cacchio Sono E qua è un po' Complicato Perché non gira Non è mica bene Eh sì Eh Ma che vuoi Guarda quanto è stretto Ah Ma in alto C'è Quanto Se la sto In alto La dice Se la sto Scassando Vai 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 Mamma mia Ce l'hai fatta Dobbiamo parcheggiare Tipo qua Ok Le basi Le hai imparate Adesso torno Nell'hangar Premier Ok Mamma mia Ragazzi Congratulazioni Hai completato Il tutorial Eh C'è un secondo ordine Ben più grande Usa quello che hai imparato Eh E completa la demo Beh io però Ragazzi Purtroppo Non ho altro tempo Per ora Il fatto è che Mi sa che non si può Salvare Però vabbè Comunque Magari L'altro ordine Cerco di portarlo In un altro gameplay Ma mi sa che questo Me lo devo ripetere Perché non si può salvare Purtroppo Non ho altro tempo Ragazzi Spero quindi che Vi sia piaciuto Vi sia piaciuta Questa Prima parte Della demo Il secondo ordine Ve lo porto Più avanti E Quindi Niente Come sempre Raga Commentate Iscrivetevi Lasciate un bel pollicione in su Ci becchiamo presto ragazzi Ciao alla prossima